I miei voti più i tuoi, per spazzare via Mussolini al Gran Consiglio. Questo è il fascicolo segreto su Dino Grandi. Duce, era proprio necessario convoccare il Gran Consiglio. Proprio adesso che... L'Italia è ferita. Aspetta un segno da casa Savoia. In una situazione così delicata, non è prudente lasciare delle tracce. Organizzare tutta questa manovra. All'oscuro del sovrano. È un atto di alto tradimento, Maria Giuseppe. Non avere paura. Andrà tutto bene. A che gioco stai giocando? Da quanto tempo hai che frequenti Beatrice? Questa storia rischia di metterci tutti quanti in pericolo. I nostri sogni valgono più di mille parole. Ci rivedremo, lo sai. Te lo prometto. Voi siete una delle poche che simpatizzano per il terzo Rai. Mi piace il fatto che non avete mezze misure. Ben amore, ho preso un piccolo pensiero. Che giovane di me potrebbe essere... La mia figlia è crede che non lo sappia. Potresti essere tu, ma non lo sei. Tuo padre sarà ricordato come il re che ha consegnato l'Italia a Mussolini. Tu come quello che gliel'ha ripresa. Il docce lo verrà a sapere. Prima o poi qualcuno lo avviserà. E chissà come reagirà. Allora è vero. Stai tremando con Dino grandi contro mio padre. Dino! 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 Attenti a quello che fate. Perché io so molto bene dove si nascondono i traditori. Il futuro dell'Italia dipende dalle nostre decisioni di stanotte. Non andare, Benito. Non andare! Non andare, Benito.